Che partita ti aspetti contro il Pescara e soprattutto che toro ti aspetti? Io mi aspetto il toro come spirito, quello visto con il Milan. Troviamo una squadra che in casa ha vinto con Juventus, Sampdoria e Bologna, quindi la maggior parte dei punti li ha fatti in casa, esattamente come noi. Noi in trasferta abbiamo zoppicato, è anche vero che negli ultimi due abbiamo fatto due buoni pari con Juventus e Inter, quindi mi aspetto una gara difficile, il Pescara ha buona individualità, compresa l'attaccante di riferimento che è il vice capocanoniere del campionato che è Pavone. Una squadra che fa molti gol, a differenza nostra, ma che ne ha subiti abbastanza, quindi dovremo fare attenzione, a casa loro sono molto pericolosi. Una partita difficile perché sempre giocare in un campo di fuori è difficile, un avversario che è forte e vediamo come va questa partita, sicuro che bene. Una partita difficile nel loro campo, comunque Pescara è una buona squadra, anche se l'anno scorso primavera due ha fatto buoni risultati con ottime squadre, sarà una bella partita, una partita difficile come tutte le altre. Grazie. Grazie. Grazie.